pronti dici non si vede non si vedeva neanche un po la ruota adesso ci siamo si vede lo schermo c'è lo schermo c'è lo schermo e cazzo questa è la sborona 4 silver poi perché la black e non c'è lo schermo e Vado come una scelta con questa tanto di bici Vado come una scelta, però anche male vedrai Vedi che sono fatti Dio che figo c'era, non c'è da entrare a vedere che fanno la bici E' tutta questa cosa Controlli il contro scherzo che non graviglia F***a le foglie No, ma è tutta un'altra cosa, è vero? Il GTM per girare si mette un'ora 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 e' un po' di più e' un po' di più e' un po' di più No, 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 no. No, 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 no.